La prima cosa che ci ha colpito quando abbiamo visto l'Oregami è il fatto che fosse qualcosa di straordinario fatto con una carta che la maggior parte delle persone non avrebbe considerato e non avrebbe visto. Il mio padre voleva che io studio, che ne sono una dottoressa, qualcosa, ma non sono riuscita. Quindi recuperando dai bidoni della carta letteralmente crea un bigliettino, fa gli auguri a uno dei ragazzi inventa un fiore, inventa una stella da lì man mano sono passati gli anni e si è tutto trasformato. ed è diventato Cartoclub. In che modo è cambiata la mia vita? Ehi, meglio! Vistafa o Vistafa? Instagram! E quello non funziona! Ciao! 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 Grazie.